Dall'inizio di quest'anno è in vigore la riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, elaborata per garantire una più diffusa presenza delle fiamme gialle sul territorio, nello svolgimento della mission di Polizia Economico-Finanziaria a tutela del bilancio pubblico delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea. La revisione fa seguito a quella che, a partire dal 2018, ha interessato i reparti speciali del corpo, rendendoli più snelli e operativi anche al fine di fornire maggior collaborazione con le autoriti di riferimento. Tra le novità introdotte dalla riforma si segnala l'istituzione di nuovi gruppi territoriali, con almeno uno per ogni provincia, finalizzata ad assicurare una più efficace funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività svolta nell'ambito del territorio assegnato ai nuclei operativi. Nella provincia di Pesorubino è stato posto alle dipendenze del Comando Provinciale il gruppo di Pesaro, con sede presso la caserma Nicola Ventura. Il nuovo reparto, retto da un ufficiale superiore, maggiore o tenente colonnello, assolverà la funzione di indirizzo e coordinamento delle compagnie dislocate sul territorio dei centri urbani di Pesaro, Fano ed Urbino. Le compagnie potranno giovarsi di una cabina di regia unitaria, la quale favorirà la diffusione e l'applicazione delle migliori pratiche operative in modo uniforme nell'intera provincia, affiancando il nucleo di polizia economico-finanziaria che continuerà a svolgere attività ispettive tributarie nei confronti di soggetti economici di maggior dimensione, nonché attività investigative di più ampio respiro. L'intento è, da un lato, quello di innalzare la qualità della presenza dei reparti sul territorio, dall'altro, quello di assicurare la crescita dei livelli di responsabilità, compiuto con l'affinamento di tutte le unità operative e militari di qualifica e competenza.